Pulire gli ambienti non è sufficiente. Oltre ad eliminare lo sporco, bisogna anche eliminare eventuali organismi nocili, ovvero disinfettare. Ma quale prodotto utilizzare? Un prodotto facile da usare con un ampio spettro d'azione e magari anche economico. Disinfectant Neolife è un disinfettante a base di sali di ammonio quaternario, efficace contro un ampio spettro di virus, batteri ed altri microorganismi. Molto concentrato e facile da usare. Con una diluizione 1 a 200 svolge un'azione sia pulente che disinfettante. Può essere applicato con uno strofinaccio umido, con una spugna, con un panno o con un nebulizzatore. Bagnate tutta la superficie da pulire, strofinate e togliete l'eccesso con un panno o un aspiratore di liquidi. Può essere usato indifferentemente con acqua calda o fredda. Negli ospedali, convitti, scuole, nidi d'infanzia, invece diluite il prodotto 1 a 100 per pulire, disinfettare e deodorare stanze di degenza, pavimenti, aree comuni, cucine e sale d'aspetto. 1 a 100 o 1 a 200 vuol dire che con un solo litro di prodotto concentrato ne realizziamo fino a più di 200 litri di prodotto pronto per l'uso. Efficace, facile da usare ed economico. Disinfetta Neolife per vivere in un mondo più sano e più pulito.